A Bari la raccolta porta a porta si è allargata nell'ultimo mese anche al quartiere San Paolo. Dopo qualche criticità iniziale la situazione va migliorando anche con nuove misure? Assolutamente sì, i cittadini residenti del San Paolo hanno risposto molto positivamente. Naturalmente il compito dell'azienda è sempre quello di agevolare e facilitare i buoni comportamenti per la differenziazione dei rifiuti. In quest'ottica con la partenza del porta a porta abbiamo sviluppato una serie di ulteriori misure a partire dai centri mobili di raccolta posizionate le postazioni che vengono installate con carrellati, cassoni dalle 7 alle 13 in zone limitrofe anche a quelle del porta a porta in cui i cittadini possono andare a portare i loro rifiuti quindi slegandosi dagli orari e dai giorni delle raccolte delle zone porta a porta. Da oggi parte anche un'altra misura finalizzata proprio ad agevolare la differenziata. L'apertura ci è stata richiesta da tanto tempo, ora siamo riusciti finalmente a risolverla con l'arrivo dei nuovi operatori, del centro comunale di raccolta del San Paolo anche nel pomeriggio. Così che tutti i cittadini che lavorano abbiano impegni in mattino possano recarsi anche nel pomeriggio dando in questo modo a tutti la possibilità di rispettare le regole e quindi fare una differenziata e aiutare con i loro comportamenti il raggiungimento di quelle soglie importanti perché regga l'intero sistema dei rifiuti. Il prossimo passo del porta a porta a Bari quali quartieri coinvolgerà? Il prossimo passo riguarderà Ceglie, Carbonara, Loseto e poi inseriremo anche il quartierino e probabilmente ci spingeremo nella fascia sud della città. Siamo già partendo con le prime riunioni proprio perché è chiaro che tutta la zona periferica della città va servita col porta a porta per evitare innanzitutto l'arrivo dei rifiuti degli altri comuni limitrofi. Grazie a tutti.